Nell'anno in cui si è ricordato il cinquantesimo anniversario della famigerata alluvione del 1966, un anomalo autunno ha letteralmente prosciugato i corsi d'acqua del Veneto e del nord-est, al punto che, come ricordano al consorzio di Bonifica Brenta, la portata del fiume era a quei tempi di 3.000 metri cubi contro gli attuali 30 metri cubi, scesi anche ad una media di 20, vale a dire che in determinati punti il livello idrico è arrivato persino a 15 metri cubi. Ciò ha determinato una situazione fortemente impattante non solo per il Brenta, ma per tutta la rete di affluenti e canali che si sviluppano nel territorio e in quest'area del paese, considerando che Veneto e Friuli Venezia Giulia sono caratterizzati proprio dalla consistente rete di corsi d'acqua. Il consorzio di Bonifica ha dovuto operare scelte importanti per mantenere i flussi vitali nei canali, dal momento che una legge specifica impone la presenza idrica minima capace di garantire la sopravvivenza della fauna e del territorio stesso in cui si diramano i corsi d'acqua. Un provvedimento significativo ha riguardato la chiusura della irrigua Roggia Rosà della sinistra Brenta Alta Vicentina, che ha consentito un'azione regolata, permettendo il calo di portata mirato ed il recupero del pescato da parte degli operatori ittici. Dura la vita per i consorzi di Bonifica da almeno una quindicina d'anni a questa parte, costretti a fare i conti con improvvise situazioni climatiche di emergenza, a cui hanno risposto, in caso di inondazioni, con la creazione di opere di accumulo e trattenimento temporaneo dell'acqua, o, in mancanza di precipitazioni, con la trasformazione a pioggia dei sistemi a scorrimento, ovvero uno dei metodi di irrigazione a gravità in terreni dotati di una certa pendenza. Uno stato di cose, quello determinato dalla siccità di dicembre, che ha avuto riflessi incredibili, per esempio, anche nella bassa marea di Venezia, scesa sotto i 50-60 centimetri per tutta la settimana successiva al Natale, impedendo di fatto la navigabilità dei ri del capoluogo lagunare ai natanti. E superando già le basse maree del 2015, quattro in tutto, verificatesi durante i primi mesi dell'anno. Una situazione che non succedeva dal 2008 e che ha creato non pochi disagi nell'ambito delle già difficili condizioni di comunicazione in una città unica al mondo. Questo stato di cose non fa altro che evidenziare la ferita del mancato scavo dei ri, legato al taglio dei fondi destinati dalla legge speciale, provocando un accumulo di fanghi inquinati nei canali e quindi anche emergenza sanitaria.